Al prossimo episodio Eh appunto mi dice pianto vero Oppure veloce Ciao E' una camera Buon amico Grandissimo E volete questo altro? Buon amico sempre Sono lì Oggi siamo qua In compagnia di Un tizio Poi con il video Mi sa che l'ho messo Dove ci sto Lasciamo qui sotto il link del video Dove ci sto E ancora dobbiamo fare una challenge Sulla marmellata No Era la maio No Non erano i miei occhi Bene Siamo al ristorante Chi è? Ciao Chi è? No Ah Ti metti su youtube Clara si vede che sei anziana Andrea sto scherzando Sei al gioco Clara Ti provaci E io Va bene Andrea Andrea Un manipolatore Delle menti Strizza cervelli Ciao Con primi cervelli Com'è state? Io sto male Per questo video Don Gianno Sì 500.000 500.600 La coca cola No Vabbè Anzi Da chi da parte di Clara la coca cola? Un milo Io semplicemente mi sto ripulendo Mi sto ripulendo A Ci salto Sì Sì No Si Si Delle pizze Le pizze In pizze In vialetto E di Scusate tu c'è i capelli Muoreling Muore bene A dove va? A saperle Muore bene Se ne iede No Se ne iede Ha detto bene? Si Se ne iede alla faccia di andrea con me delicato mozzarella patate giusta è proprio buona con me con me è buona con me fatto questo video perché se che oggi non si vuole fare giusto questo è di plastica no è di vetro con l'amico con l'amico seguite il mio canale vi lascio il link in descrizione del mio canale il profilo instagram si io ciao vabbè vabbè io sabato e cambia ora di soltetto no vabbè ragazzi ciao 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 è arrivato qualcun altro che ha già fatto i casini Andrea si è accalmato e si dimostra di niente è rimasto perplesso da qualche minuto Ciao 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 C'è un po' di più.